Ciao a tutti, sono sempre Greg e questo è il mio canale Ingenere Horror. Nella playlist dedicata ai capolavori e cult del cinema horror della storia, un posto lo trova sicuramente Il Signore del Male. 1987, John Carpenter. È il secondo di una trilogia, di un lavoro, di un corpo unico, a cui John Carpenter si è dedicato per un periodo della sua carriera e che comprende anche La Cosa e Il Seme della Follia. Sono tutti e tre La Cosa, Il Signore del Male e Il Seme della Follia sono tutti e tre film comunque a sé stanti, narrativamente parlando, e anche come continuità narrativa e come personaggi, quindi li potete vedere senza problemi uno dopo l'altro. Diciamo però che comunque concettualmente come tipo di impostazione di lavoro, come trattazione del concetto di Apocalisse, John Carpenter lo ha ritenuto un lavoro unico. E questo Il Signore del Male, benché sia un piccolo film a livello produttivo, e di budget, non è assolutamente un lavoro minore. Io lo considero uno dei suoi migliori lavori, uno dei film suoi più inquietanti, più tesi, meglio costruiti, meglio raccontati e che dà ansia e tensione che è quello che deve comunicare un argomento di questo tipo. Dove vediamo il concetto del male, vediamo come viene raccontata l'Apocalisse e soprattutto come religione e scienza e fisica siano due cose che dovrebbero essere una all'opposto dell'altro e che affrontano le cose in maniera diametralmente opposta, ma qui invece vanno a bracetto, qui si danno la mano per aiutarsi a vicenda. Una spiega all'altra per capire, vicendevolmente per capire che cosa stanno affrontando, che cosa l'umanità sta affrontando, che cosa sta succedendo. E questo è un po' il tema principale del film, proprio perché tra i protagonisti ce ne sono due, il fisico e il sacerdote interpretato da Donald Pleasence che a un certo punto diranno una frase che è fondamentale all'interno del film, ma ci arriviamo dopo perché comunque prima voglio parlare della trama, ne parlo in maniera abbastanza non approfondita perché vorrei dedicare la prima parte del video a chi il film, magari parlo ai nuovi appassionati di cinema horror, a chi il film lo deve ancora vedere. Di che cosa parla? Siamo all'interno di una chiesa, in una Los Angeles irriconoscibile, una chiesa nei cui sotterrani è tenuta nascosta, è in segreto una teca, un contenitore, all'interno del quale c'è un liquido che vorticosamente si muove all'interno. E questa teca che poi scopriremo avere comunque un passato che affonda nel buio dei tempi, ma che negli ultimi secoli e soprattutto negli ultimi decenni è stata conservata in gran segreto, soprattutto negli ultimi decenni, da una setta che ha mantenuto il silenzio. E un prete, di volta in volta, uno alla volta, ha tenuto segreto in questi sotterranei, il contenuto è quello che sta dietro, quello che sta all'interno, ciò che rappresenta. Diciamo che il custode, di volta in volta, che tramanda prima di morire al successivo, il suo successore, questo segreto, vediamo che nel momento in cui si sta narrando il film si arriva un po' alla fine e l'ultimo custode lascia un po' il tutto nelle mani di un sacerdote, Donald Pleasence, che si ritrova, lui esterno a questa setta, si ritrova un qualcosa che conosce a malapena. Cominciando a leggere il libro, che poi sarà parte anche importante e che svelerà tutti i segreti o parte dei segreti che stanno attorno a questo contenitore, riesce un po' a capire a che cosa sta andando incontro lui e l'umanità, l'umanità stessa. Quindi interpella un team, una squadra di fisici o comunque di studiosi specializzanti e specialisti anche nelle lingue antiche, nel latino e non solo, una squadra di persone che sono capitanate da un famoso professore di fisica e poi degli studenti, degli specializzanti e comunque degli specialisti per riuscire a trovare una chiave di conoscenze, per riuscire a trovare un significato a livello scientifico, un qualcosa che la religione a un certo punto fa fatica a spiegare o ha paura di cominciare a spiegare realmente. Poi da qui si scatenerà una serie di evoluzioni narrative che non sto qui a raccontare appunto perché faranno parte semmai della seconda parte del video. Che cosa c'è da dire di questo film? Beh, Carpenter mette in scena una narrazione, un soggetto che parte da uno spunto semplice ma ne fa, tirando fuori dei concetti profondi, dei concetti che colpiscono, che lasciano il segno, che emettono ansia e tensione dall'inizio alla fine. Lo fa con una regia talmente solida dove ogni inquadratura e ogni piccola quadratura, ogni specifica inquadratura ha un significato ben preciso. Lo fa con un montaggio strepitoso e con l'utilizzo di una collana sonora che non ci lascia mai dal primo all'ultimo secondo. aumenta e diminuisce il ritmo stesso del film che ha nei primi 30-40 minuti un qualcosa che sembrerebbe essere solo raccontato a livello di frasi importanti, di situazioni, di momenti ma che in mano ad un altro regista sarebbe diventato noioso, ripetitivo e senza sostanza. Qui sostanza ce n'è tantissima fino a un finale che si sviluppa anche qui ritmato nel modo giusto nell'apoteosi finale che ovviamente non sto a raccontare. Un film quindi che ha le basi delle musiche strepitose una grandissima regina un grandissimo montaggio e dei personaggi che sono utilizzati nel modo e nei momenti giusti perché abbiamo li vedremo magari parlando dell'aspetto spoiler hanno dei significati hanno delle importanze e un'importanza fondamentale all'interno del racconto di volta in volta in base alla narrazione che avanza. Ci sono anche delle citazioni dei veri e propri atti d'amore ad Inferno di Dario Argento perché a un certo punto uno dei team parlo a chi il film ha visto ma accenno appena appena uno dei personaggi dei componenti di questa squadra di studiosi viene innanzitutto prima di tutto assalito dai scarafaggi e poi colpito da un barbone con delle forbici il montaggio la sequenza richiamano un po' quello che accade in Inferno di Dario Argento quando quando l'antiquario il bibliotecario viene assalito dai topi e poi colpito da morte da un passante che avrebbe dovuto aiutarlo in quel momento. C'è un atto d'amore a Dario Argento l'Inferno di Dario Argento c'è un richiamo a Shining se vogliamo perché a un certo punto una delle protagoniste digita continuamente una stessa parola una stessa frase come avevamo visto anche in Shining batte da macchina la stessa frase anche qui c'è un rimando ma lasciamo stare le citazioni perché questo film vive è un qualcosa che a sé stante è un qualcosa di base poi di ispirazione per tantissimi cineasti e per tantissimi altri racconti il finale stesso ispirerà tanti e tanti altri film ma non arriverà nella stessa maniera non arriveranno a raccontare nella stessa maniera e con la stessa grandiosità quello che vuole raccontare questo film religione è fisica è scienza quindi perché a un certo punto l'umanità ha le conoscenze per riuscire a captare dei messaggi che arriveranno e lo dirò adesso fra un po' e la religione che devono coesistere che devono aiutarsi perché a un certo punto bisogna aiutarsi davanti all'avanzata del male a questo punto passo invece alla parte del video dedicata a chi il film l'ha già visto quindi spoiler da questo momento in poi perché voglio analizzare anche più approfondire un po' di più e andare più nel profondo perché questo film è veramente profondo quindi spoiler da questo momento anche perché cominciavamo e stavo cominciando a parlare del finale a cui si arriva utilizzando i protagonisti nel modo giusto allora stavo parlando del professore lo specialista di fisica che insieme a Donald Pleasant al sacerdote parlano ognuno con la loro tematica con la scienza e con la religione parlano di uno stesso argomento e la frase è cruciale proprio quando il fisico il professore dice che anche supponendo che esista e quindi lo dà per probabile che esista una mente superiore universale che governa tutto che controlla ogni particella bisogna considerare a livello scientifico che ogni fisico che ogni particella ha una sua antiparticella un'immagine riflessa il suo negativo e questa immagine riflessa la si può identificare proprio simbolicamente nello specchio e se in questo specchio ci fosse questa antimateria questa antiparticella o ci fosse peggio ancora questa mente che controlla il tutto cioè se la mente che controlla la mia particella fosse contenuta invece nel suo riflesso nel suo negativo nello specchio succede che quindi Dio sarebbe l'antidio e che quindi quello che dovrebbe essere il bene sarebbe il male quindi non portatore di luce ma portatore di buio ecco che quindi non c'è tanto una contrapposizione bene e male ma c'è l'esistenza di un'unica entità di un'unica mente universale che potrebbe essere quella dell'antidio quella del maligno che è imprigionato nello specchio perché nella notte dei tempi si è riuscito ad imprigionarlo in un periodo in un momento storico in un'epoca storica in cui Dio il padre di Satana camminato sulla terra è stato poi rinchiuso è stato segregato e nascosto dietro lo specchio fa parte di un altro universo che sta al di là nello specchio ed è rinchiuso e questo contenitore questo liquido verde che deve essere mantenuto sigillato ma che il periodo l'epoca storica sta per far far fuoriuscire vediamo la supernova che si avvicina vediamo gli allineamenti dei pianeti vediamo il sole la luna vediamo questi barboni non a caso i barboni l'ultima classe i reietti che si rendono conto e che per primi vengono utilizzati per portare un messaggio per barricare il nostro team all'interno della chiesa e non farli uscire e far scatenare il tutto che cosa si scatena? il liquido esce a un certo punto e comincia ad impossessare i vari protagonisti impossessa non per niente per prima una di quelle che non viene riconosciuta da nessuno ecco perché il maligno subito lo utilizza questi metodi e si nasconde utilizza quella che porta gli occhiali non si ricordano di cui non si ricorda il nome nessuno ed è la prima che poi porta avanti questo progetto e questo è quello che il maligno vuole fare poi però viene scelta una persona viene scelta un personaggio una ragazza che viene sostanzialmente ingravidata ed è questa che poi utilizzerà lo specchio prima quello piccolo ma non è non è il modo il mezzo utile utilizzerà quello grande per entrare nello specchio e tirare verso il nostro universo il maligno ecco che cosa si arriva al liquido impossessare un personaggio che poi potesse tirare verso di noi il maligno le preghiere non servono più non riesce il nostro sacerdote ad appoggiarsi alle preghiere allora utilizza un mezzo molto più terreno un'ascia una scura con la quale distruggere lo specchio nel momento in cui la prescelta sta tirando verso il nostro universo il maligno ma grazie anche alla presenza altro personaggio fondamentale grazie anche alla diciamo in questo momento all'azione eroica al sacrificio di Catherine che si lancia verso lo specchio e che porta con sé questa questa prescelta che stava tirando a noi il maligno e va dall'altra parte dello specchio lo specchio viene lo specchio viene distrutto e a questo punto il maligno viene confinato nuovamente chissà per quanti secoli ma per lo meno per ora contenuto e sconfitto è cosa che si augura e che spera appunto il sacerdote interpretato da Donald Pleasence però alla fine abbiamo che l'amante quello che aveva legato di più con Catherine ha letto da solo sconfortato per la perdita della sua amata riesce a sognare completamente quello che sognavano in parte i nostri protagonisti il messaggio che arriva dal futuro che grazie all'inconscio e al sogno cerca di avvisarci di cambiare le cose ma in maniera beffarda le cose non vengono cambiate quello che fanno i nostri protagonisti la speranza di rinchiudere distruggere lo specchio e portare con sé il tentativo di portare il maligno nella nostra dimensione in realtà ciclicamente è un qualcosa di beffardo che non fa altro che riportarci all'inizio perché quello che vediamo alla fine del sogno che esce è l'immagine la figura che esce dalla chiesa non è altro che proprio la nostra Catherine quella che ha voluto e ha cercato di mettere un freno di chiudere la porta che ha cercato di impedire che venisse annunciato il maligno è proprio quello che lo annuncia alla fine nella completezza del sogno ed è proprio questo concetto del fatto che sembra quasi sia una dei cavalieri dell'Apocalisse del resto il cavaliere dell'Apocalisse non li scatena Satana ma è Dio stesso a scatenarli a portarli ad annunciare l'Apocalisse quindi ecco che il concetto del bene e del male si riduce a un concetto unico esiste il Dio è portatore del male in questo film un film che va decisamente contro la chiesa la chiesa cattolica infatti ha urtato clamorosamente la chiesa per questi per questi concetti e nel finale splendido che sembra sospeso però il nostro protagonista si avvicina allo specchio sa che dietro allo specchio c'è ancora qualcosa che può essere scatenato si avvicina e lo stacco a un millimetro dallo specchio fa concludere il film che appunto sembra sospeso ma però ci dà e aumenta tutta l'ansia che il film ha iniziato dall'inizio alla fine una tensione che non finisce mai un film che è pieno di simboli un film che riesce ad affrontare tanti argomenti che ci dice addirittura che non si può fermare il maligno o meglio che dal futuro cercano di dirci come fermarlo ma appunto il tentativo è quello che poi lo scatenerà ci aveva provato Gesù Cristo un extraterrestre che è sceso come si dice nel film come dicono nel film è sceso è arrivato sulla terra per avvisare che cosa stava accadendo ma questo Gesù questo extraterrestre è stato ucciso perché voleva confondere un po' il messaggio che la Chiesa invece ha voluto portare avanti cioè che invece Dio è buono e ha voluto portare avanti un prodotto vendere un prodotto che in età era la menzogna lo stesso sacerdote dice che hanno portato avanti una menzogna per secoli e questo è veramente un qualcosa che mette in crisi mette veramente in crisi il nostro il nostro sacerdote e mette in crisi anche gli studiosi stessi che stanno studiando quello che sta avvenendo quindi ecco la forza di unire due cose l'antitesi la religione e la scienza che si mettono insieme che si danno la mano per aiutarsi per dare una risposta che però in realtà è una risposta sì ma non è la soluzione a quello che sarà invece un finale apocalittico che è appunto l'immagine di questo specchio dove sappiamo che di là c'è qualcosa che sta per per in contatto con il nostro universo e questo nostro protagonista che si avvicina a questo specchio sappiamo sostanzialmente cosa sta avvenendo ma ovviamente con grande tecnica registrica di montaggio Carpenter ce lo fa ce lo mette in scena con un finale sospeso bellissimo uno dei migliori finali della storia del cinema per uno per un cult e per un capolavoro assoluto questo è un po' un video come atto d'amore verso un film che è uno dei miei preferiti di Carpenter e uno dei miei preferiti in assoluto un film meraviglioso che non mi stanco mai di rivedere alla prossima e uno dei migliori finali